Le tombali. Cinque amici stavano finendo di pranzare. Cinque uomini di mondo, maturi, ricchi, tre ammogliati e due rimasti celibri. Ogni mese si riunivano per ricordare la loro giovinezza comune e dopo il pranzo rimanevano a chiacchierare fino alle due del mattino. Ancora amici intimi, contenti di stare insieme, ritenevano quelle le migliori serate della loro vita, chiacchieravano su tutti quegli argomenti che interessano e divertono i parigini. Tra di loro si faceva, come del resto nella maggior parte dei salotti, una revisione parlata di quanto si poteva leggere sui quotidiani. Uno dei più gai era Joseph de Bardot, uno scapolo capace di vivere la vita a Parigi nel modo più completo e più fantasioso. Non era uno scapestrato né un depravato, ma un curioso, un uomo giovanile e ancora giovane. Aveva infatti 40 anni appena. Uomo di mondo, nel senso più vasto e benevolo che possa avere questa denominazione. Spiritoso anche se non profondo pensatore. Colto, ma senza vera erudizione. Di agile comprensione superficiale. Traeva le sue osservazioni da ciò che aveva veduto o in cui sarà imbattuto. Storielle romancesche, comiche, filosofiche a un tempo. Pensieri sarcastici che gli avevano fatto avere una gran fama di intelligenza in tutta la città. Era stato designato quale oratore di quel pranzo e già tutti pregustavano la storiella che avrebbe loro offerta. Anche quella volta cominciò a raccontare senza farsi pregare. Stava fumando coi gomiti sulla tavola e un bicchiere di fine champagne pieno a metà davanti al piatto. Deliziosamente impigrito da quell'atmosfera carica di odore di sigari e aroma di caffè. E sembrava a suo agio, come in casa propria, perché certe persone si sentono a proprio agio solo in determinate circostanze e luoghi. Così una bighina in una cappella o un pesce rosso nel suo boccale. Tra una boccata e l'altra di fumo, incominciò. Ma è capitata una curiosa avventura qualche tempo fa. Tutti, quasi a una sola voce, lo interruppero dicendo «Raccontala». E lui ricominciò. Con piacere. Sapete che io vado volentieri a passeggiare per Parigi, come certi collezionisti che frugano le vetrine dei venditori di Ninnoli. Quanto a me, do la caccia agli spettacoli, alla gente, a tutto quello che capita a me e quel che capita in generale. Allora, verso metà settembre, in quei giorni il tempo era splendido, uscii di casa un pomeriggio, senza sapere dove sarei andato. C'è sempre voglia di andare a trovare una bella donna. Scegliamo nella nostra galleria personale. Facciamo attenzione ai confronti tra l'una e l'altra, al fascino che esercitano su di noi e finalmente decidiamo secondo l'umore della giornata. Ma quando c'è un bel sole e l'aria è tiepida, il desiderio di una di queste visite spesso viene meno. Dunque c'era un bel sole e l'aria era tiepida. Accesi un sigaro e mi inoltrai lentamente su un viale della circonvallazione. Poi, mentre girellavo senza una meta, mi venne l'idea di arrivare al cimitero di Montmartre e di visitarlo. A me i cimiteri piacciono. Mi riposano e mi infondono una dolce malinconia di cui ho bisogno. E poi, là dentro, ci sono tanti buoni amici, di quelli che non andiamo più a trovare. Ma io ci vado ogni tanto. Nel cimitero di Montmartre mi richiama poi una storia d'amore. Un amante che mi aveva conquistato. Una donna deliziosa, la cui memoria non soltanto mi rattrista, ma mi dà anche qualche rimpianto. Ogni tipo di rimpianto. E sulla sua tomba vado a sognare. Per lei, invece, è finito tutto. I cimiteri mi piacciono. Anche perché sono metropoli prodiciosamente popolate. Pensate a quanti morti riposano in uno spazio relativamente piccolo. A quante generazioni di parigini vi hanno alloggio per sempre. Trogloditi, prigionieri senza speranza, in un piccolo loculo. Una esigua fossa coperta da una pietra o indicata da una croce. Mentre i viventi occupano tanto posto e fanno tanto inutile rumore, questi cretini. E infine, nei cimiteri interessanti, vi sono monumenti quasi come quelli che riempiono i musei. La tomba di Chavignac mi ha fatto pensare. Lo confesso a un capolavoro di Chen Guillon. Il corpo di Louis de Bresse, disteso nella cappella sotterranea del Duomo di Rouen. Tutta l'arte moderna è realista e di là deriva, amici miei. Quel morto, Louis de Bresse, è più vero e terribile. Fatto di carne inanimata, ma ancora fremente nell'agonia, di tutti i cadaveri tormentati che la moda attuale supplizia sulle tombe. E nel cimitero di Montmartre possiamo ancora ammirare il monumento sepolcrale di Baudin, che ha una sua maestosità, quelli di Gautier e di Mourger, su cui ho visto l'altro giorno una sola misera coroncina di sempreverdi giallini. Deposta da chi? Forse dall'ultima modestina, vecchissima, e che magari fa la portinaia nei paraggi. È una graziosa scultura di Milet. L'abbandono e sudiciume la stanno però distruggendo. Canta la giovinezza, Mourger. Eccomi dunque nel cimitero di Montmartre, preso da una tristezza improvvisa che tuttavia non mi abbatteva. Una di quelle tristezze che, quando siamo in buona salute, ci fanno dire non è allegro questo posto, ma per me quel momento non è ancora venuto. L'impressione dell'autunno, quella tiepida umidità che sa di foglie morte, di sole ammalato, stanco e debole, aggravava rendendo la poetica la sensazione di solitudine e di fine senza speranza e si respira in quel posto su cui alleggia la morte degli uomini. Passeggiavo lentamente per quelle vie costeggiate da tombe, dove i vicini non fanno più visita ai coinquilini, non riposano nello stesso letto e non leggono i giornali. Quanto a me cominciai a leggere gli epitaffi. Vedete, è una delle cose più divertenti che ci sia al mondo. Né Labiche, né Megliac mi hanno mai fatto ridere di gusto come le comiche espressioni incise sulle tombe. Molto meglio dei libri di Paul de Kock. C'è da sganasciarsi dal ridere a guardare quelle lastre di marmo e quelle croci sulle quali i parenti dei morti hanno effuso i loro rimpianti, i loro voti per la felicità dello scomparso nell'altro mondo e la loro speranza di raggiungerlo. Che buffoni. Ma io adoro soprattutto in quel cimitero una parte abbandonata, solitaria, piena di grandi tassi e cipressi, vecchio quartiere degli antichi morti, che tornerà presto ad essere un quartiere nuovo, di cui si abbatteranno gli alberi verdi, nutriti di cadaveri umani, per allineare i recenti defunti sotto piccole coltri di marmo. Quando ebbi camminato tanto da ristorarmi lo spirito, capii che mi sarei annoiato e che bisognava portare all'ultima dimora della mia amica l'omaggio fedele del mio ricordo. avevo il cuore un po' stretto mentre arrivavo presso la sua tomba. Povera cara, era così gentile e così innamorata e così bianca e così fresca. E ora? Chino sul cancello di ferro le dissi sottovoce la mia pena, che lei non udì certamente. Mi preparava ad andare via, quando vidi una donna vestita di nero, il lutto stretto che si inginocchiava sulla tomba vicina. Il velo di crespo rialzato lasciava scorgere una bella testa bionda, i cui capelli raccolti sembravano illuminati da una luce d'aurora sotto la notte del cappello. Mi fermai. Certo doveva soffrire ad un profondo dolore. Aveva nascosto gli occhi con le mani e rigida in una meditazione da statua, smarrita nei suoi rimpianti, sgranando nell'ombra degli occhi chiusi il rosario angoscioso dei ricordi, sembrava lei pure una morta che pensasse a un morto. Poi a un tratto mi resi conto che piangeva. Lo indovinai da un piccolo movimento della schiena, simile al sussulto del vento in un salice. Pianse dapprima dolcemente, poi più forte, con rapide scosse del collo e delle spalle. D'improvviso scoprì gli occhi. Erano pieni di lacrime e incantevoli, occhi stupiti che girò intorno a sé, come se si risvegliasse da un incubo. Vede che la guardavo, parve vergognarsene, e si nascose tutto il volto nelle mani. Allora i suoi singhiozzi divennero convulsi e lentamente la sua testa si reclinò sul marmo. Gli appoggiò la fronte e il suo velo stendendosi intorno coprì gli angoli bianchi dell'amata sepoltura come un nuovo lutto. Laudì gemere, poi si gettò con la guancia sulla pietra e rimase immobile, svenuta. Mi precipitai verso di lei, le detti colpetti sulle mani, le soffiai sulle palpebre, mentre leggevo il semplicissimo epitaffio. Qui giace lui, Theodore Carrel, capitano di fanteria marina, ucciso dal nemico nel tonchino, pregate con lui. Quella morte risaliva ad alcuni mesi prima. Mi inteneri sino alle lacrime e raddoppiai le premure. Ebbero buon esito, lei tornò in sé. Io avevo l'aria molto commossa. Non sono poi tanto brutto. Non ho ancora 40 anni. Dal primo sguardo capì che sarebbe stata cortese e riconoscente. Lo fu, con altre lacrime, e raccontò la sua storia che uscì a frammenti dal suo petto anelante. La morte dell'ufficiale caduto al tonchino, dopo un anno di matrimonio, dopo averla sposata per amore perché, orfana di padre e di madre, lei aveva solo la dote regolamentare. La consolai, la confortai, la sorressi, la rialzai. Poi le dissi, non restate qui, venite. Lei mormorò, non sono capace di camminare. Vi sosterrò. Grazie, signore, siete buono. Anche voi siete venuto qui a piangere un morto? Sì, signore. Una morta? Sì, signora. Vostra moglie? Un'amica. Si può amare un'amica come la propria moglie. La passione non ha leggi. Sì, signora. Ed eccoci incamminati insieme. Lei appoggiata a me e io, che quasi la porto per i sentieri del cimitero. Appena usciti, mormorò, sentendosi mancare. Credo di sentirmi male. Vuole prendere qualche cosa? Sì, signore. Scorsi un caffè. Uno di quei caffè dove gli amici dei morti vanno a confortarsi dopo il funerale. Entrammo. Le feci bere una tazza di brodo molto caldo che parve rianimarla. Un vago sorriso le spuntò sulle labbra. Lei cominciò a parlarmi di sé. Era così triste, così triste, essere del tutto sola nella vita, sempre sola in casa, notte e giorno, non aver più nessuno su cui riversare l'affetto, qualcuno in cui aver fiducia e intimità. Aveva l'aria sincera. Io mi intenerivo. Lei era giovanissima, vent'anni forse. Le feci dei complimenti che lei accettò volentieri. Poi, dato che il tempo passava, le propose di ricondurla a casa con una vettura. Accettò e nella carrozza restamo talmente accosto l'uno all'altra, spalla a spalla, che i nostri calori si mescolavano attraverso gli abiti. È davvero la cosa più conturbante del mondo. Quando la vettura fu ferma davanti a casa sua, lei mormorò. Mi sento incapace di salire da sola le scale, perché abito al quarto piano. Siete stato così buono. Volete ancora darmi il braccio sino alla mia abitazione? Mi affrettai ad accettare. Lei salì lentamente, ansimando molto. Poi, davanti alla porta, aggiunse. Entrate un momento, perché posso ringraziarvi. E io entrai per bacco. Era una casa modesta, addirittura povera, ma pulita e ordinata. Ci sedemmo, l'uno a fianco all'altra, su un piccolo divano. Lei mi parlò di nuovo della sua solitudine. Suonò il campanello perché la domestica mi portasse qualcosa da bere, ma non venne nessuno. Io ne fui contento. Immaginai che doveva essere una domestica a ore e che venisse solo al mattino. Si era tolta il cappello. Era molto carina, coi suoi occhi chiari, fissi su di me, tanto fissi che ebbi una terribile tentazione e cedetti. La strinsi tra le braccia e sulle palpebre, che si chiusero subito, impressi dei baci, dei baci. Tanti e tanti. Lei si dibatteva respingendomi e ripeteva, la finisca, la finisca, la finisca, per favore. Che senso dava a quella parola? In casi simili, finire, può averne almeno due. Per farla tacere io passai dagli occhi alla bocca e diedi alla parola finire la conclusione che preferivo. Non resistette troppo e quando ci guardammo di nuovo, dopo quell'oltraggio alla memoria del capitano ucciso al tonchino, aveva un'aria languida, tenera, rassegnata, che disperse le mie inquietudini. Allora fui galante, premuroso e riconoscente e dopo un'altra chiacchierata di quasi un'ora le domandai. Dove pranzate? In un piccolo ristorante, qua vicino. Da sola? Sì, certo. Volete pranzare con me? Dove? In un buon ristorante dei viali. Resiste un po'. Io insistei, lei cedette, dando a se stessa questa giustificazione. Mi annoio tanto, tanto, e aggiunse, bisogna che mi metta un vestito più chiaro. Ed entrò nella sua camera da letto. Quando ricomparve era in mezzo lutto, graziosa, fine e snella, in una toiletta grigia molto semplice. Evidentemente aveva la sua tenuta da cimitero e quella da città. Il pranzo fu molto cordiale. Lei beve champagne, si riscaldò, si animò, ed io entrai con lei a casa sua. Questa relazione, nata sulle tombe, durò circa tre settimane. Ci si stanca, di tutto, e soprattutto delle donne. La lasciai sotto il pretesto di un viaggio indispensabile. Nel congedarmi fui molto generoso, del che lei mi ringraziò molto e mi fece promettere, mi fece giurare che l'avrei riveduta al mio ritorno. Sembrava veramente un po' innamorata di me. Mi diedi ad altri amori. E trascorse circa un mese, senza che il pensiero di rivedere quella piccola amante funeraria fosse abbastanza forte da cedergli. Tuttavia non la dimenticavo. Il suo ricordo mi assillava, come un mistero, come un problema di psicologia, come uno di quei quesiti inesplicabili da cui soluzione ci tormenta. Non so perché. Un giorno mi misi in mente che l'avrei ritrovata al cimitero Montmartre. E vi andai. Passeggiai a lungo senza incontrarvi altre persone, se non i soliti visitatori di quel luogo. Coloro che non hanno interrotto ogni rapporto con i loro morti. La tomba del capitano ucciso nel tonchino non aveva sul suo marmo né donna piangente, né fiori, né corone. Ma siccome mi smarrì in un altro settore di quella grande città di trapassati, scorsi all'improvviso, in fondo a uno stretto viale di croci, una coppia in lutto stretto, l'uomo e la donna, che veniva verso di me. Stupore. Quando si avvicinarono, la riconobbi. Era lei. Mi vide, arrossì, e siccome la sfiorai passandole accanto, mi fece un impercettibile segno, una brevissima occhiata che voleva dire «faccia finta di niente», ma che anche sembrava aggiungere «torni a trovarmi, caro». L'uomo era una persona perbene, distinto, elegante, ufficiale della legion d'onore, forse sui cinquant'anni, e la sorreggeva come l'avevo sorretta io lasciando il cimitero. «Concluse». Me ne andai sbalordito, chiedendo a me stesso che cos'era quel che vedevo, a quale razza d'essere apparteneva quella sepolcrale cacciatrice. Era una ragazza semplice o una prostituta che andava a raccogliere sulle tombe uomini afflitti, piangenti, una donna, sposa o amante, e turbati ancora dal ricordo di carezze perdute. Era sola? Ce ne sono tante? È una professione? Si batte il cimitero come si batte il marciapiede? Le tombali, certo. Oppure solo lei aveva avuto questa splendida idea, profondamente filosofica, di sfruttare i rimpianti d'amore che ancora germogliano in quei luoghi funebri. E avrei anche voluto sapere di chi era vedova quel giorno.